Perchè siamo qui raggiadini? Siamo qui per ringraziare! Sì, è vero! Abbiamo tanto da ringraziare la nostra facoltà che con il rosso di spiritualità ci ha permesso di andare all'origine del nostro carisma, dono di Dio ai nostri fondatori! Donno di Dio, madre tu sei, di ogni cosa semplicità, ed ogni giorno con benedà. Grazie, perché abbiamo goduto di poter bere alle fonti. Carità educativa, spirito di famiglia, la gioia della vocazione, Sì, ho deciso di portare il turismo in piccolo, per continuare a vivere la sua forza generativa. Europa, America, Asia, Africa, Oceania, Essendo con e per i giovani, segno d'espressione dell'amore pretenente di Dio, Nello stile di Cristo Buon Pastore. Chiamate ad essere, come Maria, ausiliatrici tra le giovani e i giovani. Siamo davvero felici di questa esperienza. Sopiera, in te vogliamo ricraziare la Presidente e Presidente Sopina, tutti i docenti e tutta la comunità accademica dell'Oxil. Grazie, speciale, a sua Grazia e su Eliane, che ci hanno accompagnato di una vicina in particolare. Per questo diciamo... Grazie Grazie Voila Grazie Obrigada Grazie 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 a tutti. E' un grande che ogni cosa, è l'amore che rimane. E' un grande che ogni cosa, è l'amore. Grazie.